Benvenuti su CiproTV per l'ultima puntata di questa settimana, oggi è venerdì 23 novembre. Incominceremo con le skills e faremo dei press to handstand, in questo caso il vostro coach o il vostro trend saranno in grado di spiegarvi tutte le scalature del caso. A seguire 13 minuti AMRAP con 55 burpees, 55 pull up, 55 power snatch e 55 handstand push up. Pesi e scalature come al solito sulla grafica di fianco, questo era l'ultimo vol della settimana. Ci vediamo domani per l'intervista del sabato e a tutti un buon weekend.